L'assessore regionale Roberto Sant'Angelo ha illustrato gli investimenti europei per oltre 8 milioni di euro a favore della formazione professionale dei lavoratori di imprese in situazioni di crisi aziendale e percorsi formativi e personalizzati per agevolare l'inclusione lavorativa. Due iniziative alquanto importanti, aggiunge Sant'Angelo, sia per le imprese che per i lavoratori. Parliamo di una misura che coinvolge due avvisi, circa 8 milioni e 300 mila euro a disposizione del territorio abruzzese per la certificazione delle competenze. In particolare ci rivolgiamo ad aziende in stato di crisi, aziende che hanno bisogno di formazione continua per la certificazione delle competenze dei lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, in particolare per dare la possibilità anche di rimpiegarsi nel mondo del lavoro sulle aziende in stato di crisi oppure per andare incontro alle esigenze delle aziende per le nuove competenze che si possono sviluppare all'interno del proprio posto di lavoro. La novità importante è che noi finanzieremo insieme all'ATS, ovvero all'Associazione Temporanea di Impresa che sarà composta da un organismo di formazione, ci saranno all'interno anche le aziende. Quindi le aziende parteciperanno direttamente in questo percorso e siamo sicuri della grande ricaduta che avremo sul territorio. Un bando che avrà una durata nel tempo molto lunga, aggiunge l'assessore. Dal lunedì 5 agosto fino al 2025 maggio l'avviso sarà aperto proprio per dare la maggior parte della platea possibile di accedere su questa linea di fondi che sono 8 milioni e mezzo sulla formazione. Primo avviso aziende in stato di crisi aziendale, l'altra invece aziende che vogliono aumentare la capacità di skill dei propri dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Un'altra novità è quella della certificazione delle competenze che non deve fare tutto il percorso diciamo 300 ore ma le UDA che sono il corso standard minimo che ci viene richiesto poi dalle aziende. Quindi ci saranno degli slot modulari a seconda proprio dell'esigenza capillare.